Sono iniziate lungo fiumi e torrenti curati dal Consorzio di Bonifica Medio Valdarno le operazioni di sfalcio, lavori che si sovrappongono a quelli mai interrotti anche durante la piena emergenza Covid per la manutenzione dei corsi d'acqua che coincidono con l'inizio della fase 2 dell'emergenza sanitaria. Il Consorzio di Bonifica non si è mai fermato in queste settimane di emergenza Covid. Attraverso un protocollo innovativo con i lavoratori siamo riusciti attraverso lo smart working e al lavoro protetto a mandare avanti l'attività del Consorzio che è così preziosa per la manutenzione e la prevenzione. Abbiamo continuato a lavorare e continueremo a lavorare. Un'occasione ha spiegato il presidente Marco Bottino per scoprire questi luoghi in giorni in cui dopo una lunga quarantena si può nuovamente uscire liberamente da casa. Abbiamo iniziato la stagione nelle manutenzioni e gli sfalci che ricordo hanno funzione di prevenzione idraulica quindi non sono sfalci fatti per giardinaggio ma sono sfalci fatti con funzione idraulica è importante però che questi sfalci in queste settimane si completino per poter consentire con l'avvio della bella stagione la frequentazione degli argini da parte delle persone in totale sicurezza.